Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Nuovo stop al processo per l'alluvione di Senigallia del 2014, che il 3 maggio di 9 anni fa provocò 4 vittime e ingenti danni. Capo di imputazione nullo, si riparte dunque dall'udienza preliminare. La decisione della giudice del Tribunale dell'Aquila, Monica Croci, ha sparigliato nuovamente le carte, tutto a causa di un vizio formale. Il magistrato, infatti, ha ritenuto l'accusa formulata troppo generica, perché si fa riferimento a condotte dichiarate prescritte. Un'eccezione sollevata dall'Avvocato Gianluca Conti, che difende il presidente dell'autorità di Baccino, Mario Smargiasso, imputato insieme ad altre sette persone per l'unico capo di imputazione rimasto in piedi, ovvero quello di esondazione colposa. Dopo l'improcedibilità dichiarata dal Tribunale di Ancona per l'esondazione del Misa, il fascicolo all'uvione era scivolato in Abruzzo, dove il 2 marzo dello scorso anno si era tenuta anche l'udienza preliminare, che aveva portato al proscioglimento degli otto imputati, tra questi anche due ex sindaci della città, Luana Angeloni e Maurizio Mangialardi, per i reati prescritti di omicidio colposo, lesioni personali, omissione di atti d'ufficio e falso. Oltre ai due ex sindaci, Smargiasso, sono imputati per l'alluvione del 2014, il comandante dei vigili urbani, Flavio Brunaccioni, Gianni Roccatto, dell'ufficio tecnico del Comune, l'ex dirigente della provincia Massimo Sbriscia, l'ingegnere Alessandro Mancinelli, consulente del Comune, e Libero Principi, funzionario dei lavori pubblici della Regione. La decisione di ieri sposta indietro di un anno le fasi del procedimento, si ripartirà dunque dall'udienza preliminare, e in quella sede l'accusa dovrà riformulare il capo di imputazione. Il rischio prescrizione è ancora lontano, 15 anni dai fatti, quindi maggio 2029, 9 intanto sono già passati.